Come si chiamano? Le goccele No, che goccele Il mangiabile Ma il mio preferito E buonasera a tutti ragazzi Bentornati sul nostro canale con un nuovo video Siamo tornati qui con I prodotti del supermercato Dopo ben un bel po' di mesi Perché l'ultima volta abbiamo fatto le Gatorade, Powerade e Renegade Se vi siete persi il video andatevelo a vedere Ma abbiamo fatto anche altri video Come le cioccolate, le patatine e via via E le caramelle Come dimenticarle, no? Mamma mia Ma non perdiamoci in chiacchiere Oggi cosa mi farai provare? Allora, intanto ti vendo Ok, quindi devo indovinare Sia i gusti Sia i gusti sia che marca è Eh, difficile No, è facile Sì Ci proverò Prima di iniziare iscrivetevi al canale Mi raccomando che ci aiutate Il 60% non è iscritto Quindi ci date una mano Insomma, speriamo siano cose buone Ok raga, allora prendo un attimo i prodotti E vi faccio vedere Ok ragazzi, ho sistemato tutto Adesso toglierò di nuovo tutto Perché sennò Franci vede le cose No, non va bene? Eh? Raga, non sente, non vede, non lo so Allora raga, iniziamo con la prima cosa Dall'odore... Allora, parliamo di merendine Questa sì Ah, solo questa? Ma il video non è... Merendine? Non è detto Che cosa... Che reparto hai preso? Eh, non te la dico Kinder? Sì Pingui Bravo 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 Ah, me l'hai stretta troppo Veramente Non mai più Eh, così Mi fa malissimo Va bene, allora ti stringo meno Kinder Pingui L'ho riconosciuto subito Molto buono Non lo mangiavo da un secolo Voto 9 Eccoci qua di nuovo Questo è il secondo prodotto Questo è il Kinder Bueno Quello normale Normale Io lo chiamo la nocciola Beh, quello normale è classico Non è normale Quello classico Va bene Questo è buono Osto Meglio l'altro però Quello più è buonissimo Finisco un attimo Non si vede Andiamo col terzo prodotto Questo secondo me non l'ha mai assaggiato Ah no? No Allora, sempre Kinder Ah, Paradise In italiano? Kinder Paradise Ah E come lo sai? No, mi ha assaggiato questo Buono Tarda Perché avevo visto il video di Ricky e Dadda Ah, ok E l'ha riconosciuto da questo Ah Per quello l'ho riconosciuto Eeeh Boh, 7 dai Niente di che Andiamo avanti al prossimo Quanti ce ne sono? Tantissimi Madonna Eccoci con il quarto prodotto Così piccolo? Sì Una cramella? No Un uvetto Capito qual è? Qual è? Quello con l'insetto Sì Bobones? No Kinder Bones? No Choco Bones Ok, giusto Questi qua fanno schifo Oltre al fatto che se andate a vedere negli ingredienti Sono fatti con gli insetti Questo 5, non mi piace Eccoci qua con il quinto Teoria Che Orca 2 Briosche Ah, ho capito già Stai ferma Stai ferma che tocca a me questa volta Ho già capito dalla confezione che è in carta Kinder Fiesta No Sembra il primo che ho assaggiato No Kinder Deluxe Bravo Sì? Sì Le ho sparato a caso Ma secondo me tu guardi da sempre No, ti giuro Io non ti credo Ok Sì, buono, però meglio il Pinguì 8 più dai Ah, tutto così Comunque sono bravissimo Perché andrò un altro 5 su 5 Eeeh Porco Che è successo? Sì, ho detto Kinder allora 7 meno Adesso andiamo con questo Sì, ma quanta roba c'è ancora? Pocca dai Questi ho già capito I mattoncini Kinder Ah no, scherzavo Sempre Kinder? Stavo facendo il video della Kinder Ah, ecco Adesso ho capito Proviamo tutti i prodotti della Kinder Ah Dei buffer Quali buffer? Ma che roba è? Non li hai mai assaggiati questi? No Sono buffer? No No, non lo so questo I Kinder Karts Sono robe nuove per quello No 7 più dai Che cos'è sto Pagio? Non c'entra niente Quali con le ondine? E come si chiama? I Kinder Ah no, un nome? Sì Ondine No Kinder ondine Kinder? Kinder? Maxi Non hai sentito 7 e mezzo Dai Questo ho capito Kinder cereali Bravo Senza neanche mangiarlo Ma dai ma come si fa? E bubo ma si capiva Prima o poi doveva arrivare Tra l'altro Buonissimo 9 e mezzo 10 Tu preferito? Sì Il mio preferito Scrivete sotto nei commenti Poi qual è Il vostro preferito Andiamo avanti Ho capito E mi farà un schifo Sono quelli nuovi Nuovi Da qualche mese Ah mi fai fare anche l'apertura Così Perché non riesco a Dove va? Io santo Mi è caduta Sono i biscotti nuovi Questi E come si chiamano? Fai vedere bene Come si chiamano? Le gocce No Che gocce E I biscotti del Tinder E come si chiamano? Quelli nuovi Hanno un nome I kinderini Bravo Sì Kinderini Orribili Non so Cioè un flop totale Sono buonissime Non è vero? Sono buoni Da mettere nel latte se vuoi Ma in confronto a questo Non c'è neanche da mettere Non c'è niente Sono secchi Sei Appena sufficiente Solo perché Sono comunque Dei biscotti Sono buoni Punto Allora Lo apro io Perché Franci Se no Non è capace Di aprirlo Questo veramente Ah È Pippo Bravo Ma è della Kinder Sì È buonissimo Uno dei miei preferiti Ah dammi 8 Buono Questo è il dolicesimo Questo è bianco Sarà bene Kinder buono Light No Bianco Come si dice? White È più buono l'altro Questo Ma cosa stai dicendo? È troppo dolce Però l'altro Quando l'ho dato 8 7 e mezzo Ok raga Questo è l'ultimo È il mio preferito Ho capito già Non mi piace Non so neanche come si chiama Se non l'hai neanche Oddio Se non l'hai neanche assaggiato Come fai a dire Non mi piace No Non mi piace Mi è caduto qualcosa Ho capito già Aspetta che prendo un cucchiaino Dio mio Ho già capito Apri la bocca Bene Aspetta un secondo Non masticare Non ti avevo dato No no Mi è fatto così Quello ho detto Kinder è la metà Questo è il peggiore 4 Il mio preferito Il mio preferito A parte Quest'ultimo Il chocobones E basta direi Adesso mi è piaciuto tutto La mia valutazione finale È 10 su 13 Niente male Era il mio obiettivo E l'ho centrato Se vuoi c'è un ultimo chocobones No 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 Iscriveteci qual è il vostro preferito E qual è il vostro spreferito Spreferito Consigliateci i prossimi prodotti Da provare Del supermercato Perché la prossima volta tocca a me Quindi siate buoni Raga vi prego Perché Io sono stata buonissima oggi Non puoi dire di no Sì dai Abbastanza No abbastanza Sì punto Non c'è niente altro da dire Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Ma Sì se non l'avete ancora fatto Guardate E commentate con Kinder E ci vediamo Al prossimo video Cosa parli con gli occhi chiusi? Non lo so Ormai non lo sto neanche più pensando Ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao Ciao